cari di youtube buonasera dal vostro lino juventus e allora pare che fabio parati ci abbia il ben servito la juventus nel senso che sicuramente non sarà più lui il nostro direttore sportivo dalla prossima stagione e direi che finalmente ci sbarazziamo di sto incapace perché questo ragazzi sicuramente sicuramente come talent scout nel cercare talenti giovani sicuramente è molto bravo ma ragazzi il direttore sportivo non è mai stato per lui quindi mi auguro che realmente fabio parati ci tolga diciamo il disturbo perché sinceramente negli ultimi anni ha fatto solamente puttanate chi vorresti è bella domanda addirittura si parla di un ritorno di peppe marotta c'è la verità marotta sarebbe il top nel senso che marotta sa che lui è uno dei numeri uno in italia come direttore sportivo si parla di giuntoli si parla di carnevale ragazzi io vi dico una cosa chiunque basta che togliete parati dal ruolo di direttore sportivo perché ragazzi ripeto negli ultimi anni ha fatto più cazzate che cose giuste poi se vogliamo chiamarlo mister plus valenza se lo vogliamo far fare plus valenza è il numero uno però ricordiamo sempre che nelle coppie dei campioni nei campionati plus valenza non gioca mai e non ti fa vincere niente anche se come avete potuto vedere ieri avere nei marre imbappe in squadra non è certezza di vittoria perché avete visto ieri la partita ragazzi quelli hanno fatto due goglieri in manchester city per me non è che chissà che partita abbia fatto però come ha segnato due cose due errori del portiere quindi avere grandi campioni non è mai garanzia di vittoria però perlomeno uno ci prova a fare la squadra forte ma se noi pensiamo di andare avanti in champions league sempre con le plus valenze sicuramente non facciamo tanta strada quindi ora parlando un po' della partita di ieri cioè ieri è stato l'esempio lambante che non sempre tu hai i campioni e hai garanzia di vittoria certo in più possibilità questo sì però tu lo vedi ieri nei mar mappè a parte che hanno sbagliato anche un sacco di gol poi prendere due gol per due papere cioè tu rischi di uscire fuori per due papere perché il primo gol è papera del portiere il secondo la barriera non è che noi parliamo di ronaldo ma la barriera tu parli stai già meno non è che tanto che è stato migliore quindi però come dicevo prima giustamente uno deve fare la squadra forte perché vuole provare a vincere e come dicevo prima con plus valenza non si va avanti quindi spero che il prossimo anno ringraziamo paradici per anche per le cose buone che ha fatto però tolga il disturbo io sincero ripeto come ho detto prima per il top sarebbe ritorno di marotta però giuntoli carnevali per me non sono non sono stupidi però se io devo scegliere io scelgo marotta perché per me è il migliore in assoluto e mi farebbe piacere un suo ritorno per quanto riguarda la finale di coppa italia torneranno i tifosi si parla del 20 per cento della capienza in base alla capienza dello stadio che potranno tornare quindi calcoliamo che il mape stadion se non mi sbaglio ci avranno un 23 mila e qualcosa di spettatori ora sinceramente non non ricordo precisamente comunque dall'incirca entreranno 4 mila tifosi va duemila juventini e duemila bergamaschi sicuramente è un ottimo diciamo inizio per il per il futuro vediamo come passa esperimento però dico la mia se a me vengono a dire lino ti regalo il biglietto per la prima di coppa italia dopo andrà a vedere io dire di no perché io tornerò allo stadio quando lo stadio sarà di tutti e ci sarà area da stadio per me andare allo stadio con 4 mila tifosi con le mascherine di stand ragazzi non è area di stadio per me quindi però ripeto già è un ottimo passo per il futuro vedremo come va sto esperimento qua e niente ragazzi lino juventus si mette un abbraccio un bacione iscrivetevi al canale condividete il video ripeto se parate ci dovesse andare via io sarei propenso per il ritorno di beppe marotta sembrerebbe come dicevo ieri nel video che il prossimo allenatore quasi sicuramente ma si di l'anula però non vi nascondo che dovessi arrivare zidane non sarei triste però sinceramente ragazzi se vogliamo continuare sulla strada dell'allenatore italiano prendetemi beppe marotta un bacione a tutti ragazzi fino alla fine